Buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi nella lettura del mio racconto L'amicizia tra un ragazzo e una pianta dell'episodio numero 15 La voce del saguaro Una volta che arrivò a notte Emilio, non riuscendo a dormire a causa che era molto in pensiero per il suo amico saguaro uscì di casa giungendo dalla sua pianta la quale, priva di senso, si marcì lasciando spazio a un triste ululato di un lupo messicano che era brividì il povero Emilio che, inginocchiandosi al saguaro, disse piangendo Perdonami, amico saguaro non sono stato per niente corretto ho sempre fatto di testa mia ignorando i consigli del prossimo pantandomi di me stesso non sono degno di essere tuo amico Emilio, dopo aver asciugato le lacrime alzò lo sguardo al catus trovandosi nel paradiso dei catus fu così che il saguaro del ragazzo gli parlò Emilio, tu sei sempre stato mio amico l'unico problema è che hai preferito ignorare i consigli degli altri ma ciò non l'hai fatto con cattiveria è stato il tuo orgoglio a portarti in questa brutta situazione Ascoltami, Emilio se vuoi rimediare i tuoi errori dovrai scusarti con coloro che hai rifiutato pensi i tuoi amici Mei e Tommaso ascoltare non solo i loro consigli ma anche quelli dei tuoi genitori ascolta le messagge e parole Terminato di parlare Emilio si ritrovò nuovamente fuori casa davanti al saguaro comprendendo ciò che doveva fare per rimediare ai suoi errori in passato questo è il disegno bene vi ringrazio dall'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da Davide ciao